La casa chiusa, la casa di tolleranza, il bordello è in fondo una istituzione concentrazionaria diciamo e come tale è anche affascinante quando viene messa in scena e gioco forza finisce per rappresentare un po' un microcosmo, un ecosistema in sé compiuto e a volte con il quale è molto facile metaforizzare la società che sta fuori. Il cosiddetto mondo esterno. Sono parecchie le opere che hanno preso a modello come casus belli narrativo La casa chiusa. Io stesso ne ho parlato nella rubrica Eresia a proposito del film Malamore ma forse l'esempio più fulgido è il bellissimo racconto di Guy de Maupassant, La Maison Taillée, che poi ispirerà anche un segmento di un grande film di Max O'Fuse, Il Piacere. Ma senza stare a divagare più di tanto diciamo un po' l'argomento di questo video. Il riferimento a Maupassant è alto ma non è così peregrino perché siamo ancora in Francia e parliamo di Dodò che come sottotitolo reca proprio cronache di una casa chiusa. È uscito con l'editoriale Cosmo per i grandi maestri dell'Eros, una collana neonata che il prossimo mese ospiterà il nostro Guido Crepax ed è un fumetto francese. Secondo un po' la periodicità della BD è uscito in due parti, la prima con i disegni di Georges Lévy che è anche l'autore della copertina, la seconda invece con i disegni di autori italiani, cioè Giovanni Romanini e Lucio Filippucci. Filippucci tra l'altro ha disegnato anche Tex, Romanini è una sorta di braccio destro di Magnus, ha collaborato attivamente al Texone ma non solo. Di Giovanni Romanini peraltro abbiamo già parlato a proposito di Ulula che era uscito sempre con l'editoriale Cosmo. Ma la figura forse più interessante è quella dello sceneggiatore Francis Leroy che è un regista cinematografico, diciamo è nato nei primi anni 40, un regista lo potremmo definire post-nouvelle vague che lavora nel cinema mainstream ma lavora nel porno soprattutto. È un regista di film porno a quanto pare tra gli anni 70 e 90 si dedica a questa attività. Ora da un regista, io non ho visto i suoi film hard quindi non so che dire, magari adesso perché stavo dicendo una cosa che forse suona un po' lapidaria. Che cosa stavo dicendo? Stavo dicendo da un regista di film a luci rosse, quelli diciamo senza particolari connotazioni, senza particolari esigenze autoriali, ecco uno si aspetterebbe un tipo di messa in scena dell'Eros molto molto basilare, quella che un po' siamo abituati a vedere poi in tanto fumetto, nei fumetti delle di fumetto di Renzo Barbieri per esempio, ecco in Ulula, tanto per dire un personaggio, una testata che ultimamente si è riaffacciato in edicola. In realtà questo dodò del quale, così esito a farvi vedere delle tavole perché non vorrei incorrere nella censura di YouTube, ma anche soltanto per capire l'eccezionalità del disegno di Giorgio Levivi, mostro tavole non particolarmente hard, e invece della bravura di Romanini e Filippucci già sappiamo, anche se non so come Romanini e Filippucci si dividessero il lavoro, comunque vabbè. Ma dicevo, la sceneggiatura che Giorgio Le Rouen mette a disposizione dei suoi disegnatori è una sceneggiatura bella, complessa, che racconta una storia affascinante con personaggi scolpiti, perché questo, dodò è il nome della protagonista, al secolo Julie, dodò il suo nome d'arte, come sappiamo spesso nelle case chiuse le ragazze avevano dei nomi d'arte, quindi che arriva in questa casa chiusa nell'ultimo anno di guerra, c'è ancora l'occupazione nazista sulla Francia e la madre Soudon si chiama, le proprietarie, le tenutarie del bordello sono Madame Betty e Madame Manon, e come spesso succede in situazioni di guerra, la casa chiusa diventa anche un luogo dove si fa dello spionaggio, dove si, diciamo, si giocano un po' anche le sorti paradossalmente di un paese, perché in una casa chiusa poi come quella che è al centro di questa storia, che è una di quelle più rinomate della capitale francese, ecco che allora anche le persone, anche i clienti, spesso appartengono alle alte sfere dell'esercito d'occupazione. Dodo e sua madre vengono dalla provincia, l'eruale racconta niente affatto come, diciamo, una madre e una figlia in armonia fra loro, anzi c'è gelosia, tra loro c'è un uomo, Leon, che è un lenone, uno che fa affare col nemico, un doppio giochista, e in qualche modo loro due si contendono, non l'amore ma, diciamo, neanche l'affetto, diciamo l'attenzione, ecco, l'attenzione di quest'uomo, che poi avrà anche una sorpresa amara nel finale dell'ultima storia. E' un'ultima storia che tra l'altro ci racconta l'immediato dopoguerra, il 1946, che è anche l'anno in cui le case chiuse vengono veramente chiuse, cioè viene messa fuori legge, un po' come la legge Merlinda, noi adesso non so come si chiama quella francese, non mi ricordo, però insomma le case di tolleranza, le case chiuse vengono chiuse, le case di tolleranza non vengono più tollerate. E quindi c'è anche, se vogliamo così, se nella prima storia prevalevano i toni un po' cupia, anche, no, di un paese in guerra, e le spy story che si, così, intracciavano in questo bordello, ecco che invece è più malinconico il racconto della seconda parte. Anche se tutto, a mio avviso, è trattato con molta leggerezza, perché, da come ne parlo, adesso sembra che in realtà l'elemento dell'erotismo, del sesso, sia poco presente, in realtà è presentissimo, il catalogo di queste ragazze è vasto, e tra di loro ci sono anche, diciamo così, del malanimo, a volte dei litigi, no? C'è un personaggio, una ragazza di colore, questo sì, è un momento molto poco leggero, che viene uccisa da un soldato americano in un raptus di follia, ma viene tutto coperto dalle tenutarie per il quieto vivere. Poi tra le tante abbiamo anche una bella dominatrix, che ha un po' l'aspetto di Betty Page, e ha quasi una sfumatura supereroistica in questo disegno, secondo me, di Romanini. Comunque è un fumetto molto bello, che tra l'altro, in cui io sono capitato per caso, proprio mi aspettavo una storia così disimpegnata, molto molto centrata proprio sui temi dell'Eros, e in realtà è qualcosa di molto più denso e che, a mio avviso, potrebbe proprio interessare anche chi non è nemmeno, volendo, strettamente legato all'erotismo, seppure l'arte di Francis Leroy come sceneggiatore e Georges Lévy prima come disegnatore, poi Romanini e Filippucci, assolutamente soddisfa chi ha anche come principale interesse quello dell'Eros a fumetti. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.